Cecilia Rodriguez e la caduta rovinosa in diretta, ecco il video dell'incidente. Cecilia Rodriguez cade rovinosamente durante un evento, ecco il momento dell'incidente e cosa ha detto subito dopo essere caduta. Tradita da un abito troppo lungo? Cecilia Rodriguez è stata protagonista di una scenetta esilarante durante una manifestazione alla quale era stata invitata. Elegantissima nel vestito nero con tanto di pizzi e coda, si stava portando al centro del palco annunciata da una musica trionfale. Il passo però è tutt'altro che spedito, la camminata incerta, qualche tentennamento e infine la rovinosa caduta. In soccorso della sorella di Belen è prontamente intervenuto un uomo da dietro le quinte, che l'ha aiutata a rialzarsi e a sistemare il vestito. Barbara D'Urso e la battuta al veleno per Cecilia Rodriguez, ecco cosa ha detto dopo l'accaduto in diretta. È troppo lungo ha commentato la Rodriguez con ironia tra le rissate degli spettatori presenti. È anche pesante ha aggiunto il suo soccorritore. Recuperato l'equilibrio e la concentrazione, la bella Cecilia ha potuto iniziare il suo lavoro. Non prima però che l'uomo le chiedesse, ti sei fatta male? No, no, sto bene attranquillizzato con un sorriso l'ex, di Francesco Monte. Ho solo fatto una gran figura di ma. Il pubblico, che attendeva la bella fidanzata di Ignazio Moser si è lasciato andare a una reazione mista tra il divertito e il preoccupato non facendo mancare un applauso di incoraggiamento. Il video di CQ, che cade sul palco sta facendo, come era prevedibile, il giro del web, scommettiamo che otterrà più click della ormai nota scena dell'armadio. Il pubblico, che è un'esplosione, la bella di CQ, che è un'esplosione, la bella di CQ.